Le dimissioni non ci saranno perché io non solo resisterò ma continueremo a difendere questa esperienza che dà fastidio a molti perché a Napoli abbiamo buttato fuori dai palazzi alla politica affaristi e politicanti che vogliono rimetterci le mani come si vede anche dallo sblocca Italia, invece farò un'altra cosa, voglio far capire ai cittadini perché sono stato condannato e da domani inietterò pubblicamente tutti gli atti delle mie vicende giudiziarie. Bisogna resistere di fronte a un attacco politico che va avanti da tempo nei confronti della nostra città e questo di fronte a un attacco politico si resiste con la politica e andiamo avanti, poi si è aggiunto a un attacco politico una sentenza profondamente ingiusta, intrisa di violazioni di legge, di cose che non vanno e che mi auguro che il nuovo Consiglio Superiore della Magistratura legga con attenzione quel procedimento e quella sentenza per farne una valutazione, penso che in magistratura ci siano diversi magistrati collusi, corrotti e che non applicano la legge come dovrebbero, cioè secondo il rispetto della Costituzione e per questo ho pagato in magistratura, ma nello stesso tempo so che ci sono tantissime donne e uomini nella magistratura onesti che sapranno anche riformare una sentenza così ingiusta. Poi se qualcuno mi chiede di dimettermi per una sentenza che io giudico gravissima e per quanto mi riguarda tutto il diritto di definirla vergognosa, perché mi riguarda, semmai sono quei giudici che guardandosi allo specchio si dovrebbero dimettere per questo tipo di sentenza che hanno messo. Ma grazie al Presidente del Senato ha tutta la sua legittimità a esprimere questo, però vorrei chiarire una cosa, state facendo voi un po' di confusione, perché una cosa è la sospensione e una cosa sono le dimissioni. La sospensione è un atto che è tutto da vedere, che non spetta a me decidere se qualcuno si assume la responsabilità di fare una sospensione lampo laddove in altri casi passano molti mesi, vediamo se ci sono gli estremi a fare la sospensione, secondo me no. Semmai è la Severino che ha fatto questo decreto attuativo di una legge delega su cui poi bisognerà interrogarsi, mentre sosteneva come avvocato le ragioni dell'ex Presidente del Consiglio Prodi nel processo a Roma. No, ma quella non è a Berlusconi, non è stata applicata a Severino, Berlusconi è stato condannato in via definitiva e scattano le pene. Io non è che critico la bontà della legge Severino, per esempio la legge delega seppur sbagliata ha dei contenuti che io condivido, è un po' strana che ci sia l'abuso d'ufficio non patrimoniale, per esempio in cui non ci stanno condanni in Italia se non la mia, in primo grado ovviamente, perché io sono innocente fino a sentenza definitiva e la dimostrerò, e poi non c'è il falso che per esempio viene putito da 3 a 10 anni. Trovo curioso questo fatto che ci sia una differenza evidente tra la legge delega e il decreto legislativo, è ovviamente assolutamente una coincidenza che il ministro della giustizia dell'epoca è come dire la Severino, che è assolutamente una coincidenza, che difendeva Prodi nell'udienza preliminare ed è assolutamente una coincidenza che chiedeva la condanna di chi parla, poi nella vita ci stanno anche le coincidenze, non è che sono solo certe volte i fatti l'un dietro l'altro, però nei prossimi giorni racconteremo una serie di coincidenze. Io sono pronto a fare anche il sindaco sospeso, per un periodo invece di avere la fascia tricolore del sindaco avrò la fascia sindaco sospeso. Allora io voglio schiarire, siccome oggi sento il Presidente del Consiglio che tutto può dire tranne di non essere espressione di un potere forte in quanto Presidente del Consiglio, segretario di un partito e tutto il resto che ne consegue, ha parlato che lui si mette contro i poteri forti, siccome gli ultimi provvedimenti che sta mettendo in campo dalla modifica dell'articolo 18 al Bagnoli e altri mi sembrano proprio l'espressione di poteri forti, io adesso non posso più parlare di poteri forti, bisogna dire quello che ho sempre pensato, cioè che contro di me quando ero magistrato si è messo in moto un sistema criminale. Io non mi sento perseguitato, io mi sento un magistrato che ha fatto il proprio dovere, che ha pagato un prezzo alto, oggi qualcuno, anche qualche mio amico mi invita alle dimissioni, vorrei ricordare che sono l'unico magistrato insieme ad Antonio Di Pietro che mi sono dimesso dalla magistratura, non perché mi hanno fatto un procedimento disciplinare assurdo, preseduto da Nicola Mancino che oggi è imputato a Palermo nel processo trattativa stato-mafia, mi sono dimesso perché nel momento in cui mi hanno strappato la toga ho deciso di perseguire i miei reali di giustizia altrove, quindi non devo prendere lezioni su come mi devo comportare, anche perché io sto in trincea da 20 anni, ho dedicato la mia vita alla trincea e francamente non prendo lezioni da chi sta dietro a un computer e mi dice se mi devo o non mi devo dimettere, non è solo politica, è molto più grossa la cosa, in quelle inchieste ho toccato ambienti molto più ampi della politica, magari fosse solo la politica, ci saranno cose più grosse, più pervasive, io credo che sono circa una cinquantina i verbali che non sono ancora usciti sulle mie vicende salernitane, nei prossimi giorni li pubblicherò sui social network. Tutti i procedimenti penali fatti contro di me, 80, 80, ma posso mai essere il totorrina della magistratura, 80, si sono fatti tutti a Catanzaro tranne uno a Roma e guarda caso quello là di Roma, vorrei sottolineare Achille Toro, dare a vedere la storia e il profilo di Achille Toro per andare un po' a vedere in profondità, ma io non mi dimetto, se qualcuno ritiene di sospendermi si è assumessa la responsabilità di farlo, di farlo domani mattina, dopodomani, di farlo di notte, di farlo a tambur battente, facessero quello che voglio, tanto su di me sono stato abituato a vedere le cose più anomale, più uniche, più atipiche che da magistrato ho avuto modo di verificare.